bello a tutti ragazzi sono simon88 e benvenuti in un nuovo video volevo mostrarvi queste due action figure che ho acquistato da poco praticamente una è gone l'altra è videl allora questa è videl praticamente guardate come è fatta malamente bene guardate questo è tutto il suo splendore la faccia è molto simile a tutto braccia questa è praticamente tutta la sua interezza la figure è originale non è un falso questa è tutta la loro bella figure poi perché è fatta veramente bene tutto nel loro dettagli questa è la scatola con il bollino originale questa è la scatola davanti dietro questa c'è la versione a e b ma io ho preso la versione a che mi sembra molto più fedele al originale perché nel cartone stivali gialli non li ho mai visti sinceramente poi non so di tenevo nei commenti se li avete visti questa è la scatola è originale bandai presto la figure praticamente si divide in due pezzi piedi perché si attaccano al corpo poi c'è la base il braccio che si stacca e praticamente questo è una bella figure dai per cioè l'ho pagata sulle 40 euro diciamo una bella figure da mettere in esposizione ci sta comunque poi di statuette di videl non è che se ne trovano tante in giro ultimamente perché questa è una delle prime che ho visto dalla ban presto e allora l'ho subito presa perché sono un grande collezionista di ban presto dragon ball poi questo invece è con questo invece con che è con supremo vabbè note che ve lo dico sapete già questo invece era diviso in due pezzi praticamente corpo e gambe e anche la testa che si stacca la testa guarda la faccia mi sembra molto fedele all'originale guardate questa mi sembra molto fedele all'originale comunque ci sta un botto perché non è la versione normale ma è quella grandista questa comunque il dettaglio di dietro così a me mi sembra molto 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 questo rigi anche questa qua è dalla ban presto facciamo vedere la scatola perché non crede che sono originali allora questo è marchiato con il logo questo da ban presto questo è il retro questo è praticamente ben dietro questo è il dentro e poi dentro ci dovrebbe essere anche per far sapere che la figura è originale dovrebbe esserci dentro un codicino ovviamente che andiamo adesso andiamo a vedere aspetta che andiamo a vedere scusate lo vedete è lì che si vede e che dire praticamente belle figure queste sono due grandi acquisti guardate guardate queste figure insieme poi insieme fanno anche una bella copia cioè guardate ditemi voi aspetta questa è caduta scusatemi per la qualità del video ma sono i primi video che faccio devo ancora abituarmi un po al a come si fanno i video perché sono proprio sono i primi video che faccio comunque guardate questi sono veramente due belle figure comunque bellissime allora no da datemi un parere su come come vi sembrano scusate per la qualità del video scusate va anche per servizio non è venuto abbastanza bene ma ripeto è uno dei primi video che faccio spero di potere poterne fanno i migliori e più avanti cercherò di portarvi più video più belli e con altri action figure sempre di dragon ball da simonton tutto e totto è tutto ciao alla prossima lasciate un like iscrivetevi al canale alla prossima ciao ragazzi